La notizia che tutti in città, adulti e bambini, aspettavano da anni è finalmente arrivata. Da domani il Parco Divertimenti di Edellandia riapre al pubblico con 23 attrazioni, tra le storiche e quelle nuove, 15 punti ristoro ed il Gran Teatro al coperto con 400 posti a sedere. Ad annunciarlo con entusiasmo questa mattina è l'amministratore unico della New Edellandia Gianluca Vorzillo, giovane imprenditore da agosto scorso alla guida della società che ha investito 8 milioni di euro per la rinascita del Parco. Possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, ho detto più volte che in qualità di imprenditore sono molto soddisfatto perché ovviamente come molti sanno sono entrato nella compagine a questa donazione di maggioranza solo il 24 agosto 2017 e oggi è un risultato importante dopo nove mesi. Le giostre storiche sono un attimo in sospeso perché stiamo volando con la commissione di vigilanza un'ulteriore garanzia per la sicurezza ovviamente dei clienti, ma per il 2 agosto dovremo sbloccare tutto. Abbiamo riassunto dopo una lunga battaglia che è durata quasi a nove mesi con le sigle sindacali, le 53 risorse storiche di Edellandia saranno sicuramente incrementate perché abbiamo bisogno ovviamente di più unità, quindi apriamo un attimo questi giorni, ci organizziamo bene l'azienda e poi dopo partono le assunzioni. Inaugurata la presenza del sindaco Luigi De Magistris e della presidente della mostra d'oltremare Donatella Chiodo, Edellandia torna con le sue giostre più famose, dal grande castello di Lord Shadon al trenino incantato, dai tronchi al galeone misterioso, immancabili le graffe apprezzate da diverse generazioni ed una ricca programmazione di eventi. Sono davvero soddisfatto a nome mio personale, dell'amministrazione, ma credo dell'intera città, perché pochi luoghi a Napoli identificano il legame tra la famiglia e la città come Edellandia. Tantissime generazioni, compreso la mia, sono passate di qui. Provo soddisfazione, devo dire, molto anche per i lavoratori. Io come sono entrato ho ricordato l'immagine di molti anni fa, quando ci fu un'assemblea popolare improvvisata all'ingresso e la disperazione di questi lavoratori, lavoratrici, delle loro famiglie per la perdita di lavoro. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo perché, devo dire, anni fa sembrava impensabile questo risultato. Ci sono state diverse traversie, momenti difficili, non sempre compagini societari all'altezza. Negli ultimi mesi abbiamo visto competenza, energia, passione, quello che ci voleva, anche rischio, rischio imprenditoriale. L'amministrazione comunale ha fatto un lavoro enorme, con tutti gli assessorati coinvolti, dal tema dei condoni, le autorizzazioni. Oggi apre, c'è ancora qualcosa da fare, ma è bello vederlo aperto e ancora con alcuni lavori in corso. Una bellissima giornata per Napoli, una bellissima giornata soprattutto per i bambini, non solo della nostra città, ma di tutti i bambini che da ogni parte del mondo vogliono venire in questo così antico parco dei divertimenti. Una bella giornata per Fuori Grotta, per questo quartiere, che dopo lo zoo, la fattoria didattica e la mostra d'oltremare ed altro vede comunque una riscossa importante tra mille problemi. Con soddisfazione anche nella conferenza stampa che è stata fatta, quando è stato presentato il progetto con i pareri positivi della sola intendenza, ho detto questa è la volta buona. Avevo ragione anche io a poterlo dire, infatti oggi riapriamo. Domani praticamente si inizia alle 9 del mattino fino alle 22, sabato e domenica invece chiuderemo alle 24. Il ticket ha un costo di 2 euro simbolico, perché si viene subito convertito praticamente in due gettoni, quindi sostanzialmente l'accesso a parco è gratuito. Di questi 2 euro invece la cosa positiva è che il 10% va a Fondazione Santo Bono e il 5% va a Unicef.